è ufficiale il tax barn di terra luna classic è stato implementato questa mattina si è raggiunta l'epoca si è raggiunto il blocco che permetterà a terra luna classic di evolversi verso quella che è una nuova direzione il tax barn infatti darà l'opportunità la possibilità di bruciare da ogni singola transazione l'1,2 per cento ne abbiamo ampliamente parlato nei video precedenti nelle scorse settimane e quindi se ancora non sapete bene come funziona un po' questa nuova evoluzione di lunk di terra luna classic che comprende anche ustc quindi ust classic la stable coin algoritmica dell'ecosistema di terra luna classic recuperate i vecchi video che abbiamo pubblicato sul canale dove abbiamo spiegato tutta l'evoluzione dall'entrata dello staking fino a questo tax barn che è stato raggiunto tra poco vi faccio vedere naturalmente dove potete visionare un po' il tutto e capire se già hanno iniziato a bruciare in questo momento come potete vedere terra luna classic ha un prezzo di 0,30 28 78 ma è abbastanza volatile il mercato delle criptovalute è abbastanza volatile il momento questo naturalmente questa è una notizia talmente importante per quanto riguarda l'unk che non possiamo guardarla solo nel breve periodo se terra luna classic riuscirà a raggiungere quello che è il suo obiettivo cioè ridurre la supply che in questo momento corrisponde a più di 6 bilioni di token e quindi eliminare questo 6 eliminare questo 1 e questo 51 portarlo a 10 quindi arriveranno a 10 miliardi di token totale allora lì si potrà parlare di una totale evoluzione di lunk e quindi la community avrà vinto ok quindi ce n'è strada da fare ma naturalmente queste implementazioni hanno fatto sì che l'ecosistema di terra luna classic non morisse totalmente ecco stare lì con le mani in mano senza fare nulla non era una cosa corretta la community si sta muovendo da questo punto di vista ed è stata implementata questa realmente credetemi è una grande notizia lo sapete io nei miei video non vi dirò se terra luna classic arriva un dollaro a 50 centesimi 10 centesimi se si mangia uno zero se si mangia due zero perché non è prevedibile dobbiamo attendere vedere quello che accadrà sapete benissimo che noi di cripto valori italia non siamo invasati portiamo notizie nel canale non diamo consigli finanziari in quanto non siamo consulenti finanziari ma cerchiamo però di dirvi le cose come stanno quindi raccontiamo quello che sta succedendo come dico sempre non ci schieriamo le da una parte nell'altra certo è che a inizio mese più che inizio mese ad agosto avevamo detto comunque che poteva essere un ottimo investimento terra luna classic perlomeno noi siamo entrati e si poteva comunque fare un bel gain visto il prezzo che c'era e vista le novità che comunque stavano per accadere e ci abbiamo preso questo c'è da dire e lo dobbiamo dire prima di andare avanti e quindi entrare nel dettaglio di questo taxi bar di questa clamorosa notizia andiamo a vedere una cosa importante cioè se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate la campanellina di tutte le notifiche per non perdervi tanti altri contenuti come questi dedicati al mondo delle criptovalute e anche di terra luna classic inoltre vi ricordiamo che abbiamo creato il nostro nuovissimo canale telegram dove all'interno del canale pubblichiamo notizie relative al mondo delle criptovalute giveaway quindi abbiamo intenzione di fare anche dei giveaway di dare dei bonus in cripto e quant'altro il link per poter accedere al gruppo telegram lo trovate in basso in descrizione mi raccomando iscrivetevi perché lì ci saranno grosse grosse novità e se volete rimanere aggiornati anche dal mondo lungo e ustc naturalmente iscrivetevi al nostro canale e andiamo quindi subito all'interno del sito web che ci permette di capire e comprendere che cosa sta avvenendo allora la cosa che ci interessa maggiormente a noi andare qui in basso e come potete vedere il blocco 9 milioni 475 200 è stato anche superato alla grande siamo nell'epoca 94 quindi abbiamo raggiunto quello che era il blocco e come potete vedere qui i blocchi con la tax barn attiva sono attivi ce lo dice qui siamo attivi ok qui ci fa vedere quello che il prezzo attuale di lung e qui di ustc e guardate un po' attenzione qua ci fa vedere ci mostra quanti terra runa classic stanno bruciando e quanti ustc cosa importante qui ci fa vedere che il wallet barn di lung ufficiale è questo qui quindi se nel caso vi diranno inviate dei dei lung qui per poter fare dei barn controllate perché alcune volte potrebbero essere dei scam quindi state molto molto attenti e quindi comunque come potete vedere sono stati già bruciati 3 milioni 255 mila barnati di lung ok di terra luna classic quindi più di 3 milioni di terra luna classic e più di 3 milioni di ustc naturalmente è appena stata implementata e vi ricordo qui io vi faccio vedere il grafico ok vediamo proprio il grafico nell'ultimo giorno ecco qui impostiamolo in questa maniera come potete vedere abbiamo un po di candeline verdi qualcuna rossa e così via ma ci sta o in questo momento e se andiamo a vedere i dettagli tecnici anche se andiamo a guardare quelli degli ultimi minuti come potete vedere vi faccio vedere delle cose guardate qui c'è chi sta vendendo e quindi il sommario ci dice di vendere che stanno vendendo in questo momento e medie mobili stanno vendendo adesso gli oscillatori vende adesso ma naturalmente cosa fondamentale vedete metto 15 minuti poi diventa netro neutro metto 30 minuti dicono 20 metto un mese e cambia un po tutto perché diventa neutro e così via l'ultima settimana compra cioè capite bene che abbastanza volatile comunque in ogni caso il senso di quello che bisogna fare adesso è questo se tu credi nel progetto di terra luna classic tieni i token non ha senso venderli al massimo come ho spiegato anche nel video di ieri siccome binance e altri exchange non hanno implementato il tax burn sul trading e sappiamo bene che binance è il 35 per cento della supply quello che si dovrebbe fare se realmente ci si crede in terra luna classic si vuole partecipare e supportare la community attivamente bisognerebbe inviare a terra station i propri token bruciando l'1,2 per cento dei propri token uscendo da exchange tipo binance quando poi implementeranno la tassa sul trading allora in quel caso magari si può rientrare e può avere senso detenerli lì perché vi dico questo perché in primis non si arriverà mai al risultato perché se binance continua per il 35 per cento e non barna considerate che di questi sei milioni in realtà due milioni non verranno mai barnati più di due milioni due bilioni scusatemi ok quindi di questi 6 bilioni due bilioni non verranno barnati quindi quell'obiettivo non si raggiungerà mai partiamo da questo presupposto naturalmente comunque il barna aiuterà il token a diminuire a diminuire di supply circolante quindi di offerta circolante e generalmente anche di aumentare di valore nel lungo periodo perché è normale che in questo momento è troppo inflazionato il token però se si vuole raggiungere l'obiettivo reale e si vuol far sì che l'ecosistema possa evolvere perché poi attenzione bisognerebbe che poi ci fossero dei protocolli che supportano terra luna classic e quant'altro quindi comunque non è che debba finire qui per forza ripetiamo il tax bar nello staking danno una grossa una grossissima mano all'unc però se si vuole realmente aiutare e supportare la community allora si va su terra station guardate il tutorial che ho realizzato da questo punto di vista naturalmente io non vi sto dicendo di farlo vi sto dicendo che se credete nel progetto sarebbe giusto ed etico fare in questo modo se invece volete semplicemente stare lì a detenere questi token perché volete andarci a speculare allora fate naturalmente come meglio credete quello è corretto il mondo delle cripto è anche questo speculazione compro e vendo detto questo se vado su terrarity posso anche vedere in diretta quelle che sono praticamente le transazioni dove ci sono i barn ok considerate che adesso in questo momento un po tutto in fase beta quindi vedrete degli errori quant'altro semplicemente perché è stata appena implementata quindi nei prossimi giorni comunque non vi preoccupate realizzeremo nuovi video anche dedicati a terra luna classic e quindi vi daremo aggiornamenti ma qui possiamo vedere praticamente i barn che vengono effettuati anche diciamo in tempo reale sul burning address questo qui e quindi vedere anche quanto quanto ne stanno barnando vedete qui un milione qui 49 qui 1 qui 5 qui 200 qui 800 qui 1105 è stato appena implementato quindi questo numero naturalmente considerate che è destinato a salire guardate qui per esempio barn sono stati barnati in questo momento ci dice 67 mila questi sì ma prima erano 3 milioni quindi questa fase prendetelo un po con le pinze comunque è ufficiale che attivo il tax barn ok quindi questo almeno comunque attivo c'è ed è una cosa abbastanza positiva ok ora da questo punto di vista l'unica cosa che vi dico è di seguire il nostro canale di attendere rimanere collegati con nuove notizie vi daremo aggiornamenti e vediamo anche cosa vogliono fare gli exchange centralizzati vediamo se binance cambierà idea da questo punto di vista ve lo diremo vi ricordiamo di iscrivervi al canale attivare la campanellina delle notifiche se ancora non l'avete fatto e infine vi chiedo di lasciare un commento e dirci cosa ne pensate di questo tax barn e dove vedete terra luna classic a quale prezzo voi vedete terra luna classic nel prossimo futuro ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto